buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale youtube vediamo in questo filmato una macchina veramente molto molto rara denominata osborne variant 1 l'osborne variant 1 come suggerisce il nome è una versione customizzata del famosissimo computer osborne 1 noto per essere il primo computer trasportabile della storia progettato nel 1981 da lì felsenstein noto anche per essere uno dei membri fondatori dell'ombreu computer club questa macchina qui è un derivato dell'osborne 1 in particolare è un computer realizzato in olanda sostanzialmente la hermes information services in olanda ha acquistato le schede di un osborne 1 e su richiesta delle poste olandesi ha costruito questa macchina qui che è sostanzialmente una versione desktop del primo trasportabile della storia quindi dell'osborne 1 questa macchina qui se l'osborne 1 originale è uscito è stato commercializzato a partire da aprile 1981 questa macchina invece è stata realizzata intorno a luglio del 1981 la macchina condivide molti aspetti hardware con l'osborne 1 originale in particolare la tastiera che potete vedere qui è staccabile ed è pienamente compatibile con l'osborne 1 originale analogamente la scheda interna è la scheda di un osborne 1 originale in tutto e per tutto e quindi diciamo che questo computer qui come l'osborne 1 è una macchina cpm a uno z80 64 kilobyte di memoria ram qui possiamo vedere il pannello posteriore del computer come potete vedere è riportata il connettore per il modem la porta seriale rs 232 il connettore per la porta ai tripoli 488 il connettore per la tastiera qui parte un flat che poi va riportato sulla parte frontale l'uscita video da questo connettore bnc l'ingresso per la tensione di rete della 220 il collegamento per il monitor ed eventualmente il collegamento sempre della tensione di rete per la stampante il tasto di reset e qui c'è questo strano connettore che riporta la scritta alimentazione a batteria quindi probabilmente per qualche unità esterna con delle batterie in suppongo mentre qui troviamo appunto la targhetta che riporta hermes information services e il numero di serie della macchina vediamo ora come si presenta all'osborne variant 1 una volta rimossa la cover superiore in particolare possiamo vedere nel dettaglio i due drive da 525 le meccaniche con le relative schede di controllo dalle schede di controllo parte un flat che collega assieme i due drive fino a poi interfacciarsi con la scheda madre la scheda madre del computer è posta qui sotto per accedervi è necessario sollevare il blocco drive sempre in questa zona oltre ai drive troviamo l'alimentatore alimentatore che a partire dalla tensione di rete fornisce le tensioni di funzionamento a tutto il sistema ai drive la scheda madre eccetera particolare prima di accendere il computer è necessario sostituire i condensatori rifa dell'alimentatore questi condensatori infatti con il tempo perdono le loro proprietà elettriche e quindi spesso tendono a rompersi fare fumo addirittura esplodere quindi è buona cosa a sostituirli prima di accendere il computer poi qui vi è un filtro emi filtro della 220 anche questi condensatori di filtro questi queste unità qui tendono tipicamente a dare dei problemi e andrebbero sostituite anche loro poi qui troviamo la ventola di raffreddamento e infine qui l'uscita video che dalla scheda madre è riportata sul pannello posteriore dove troviamo anche le varie prese della 220 prima di far funzionare il computer sarebbe buona cosa controllare sempre anche i floppy drive in particolare rimuovere le eventuali tracce di sporcizia presenti nella meccanica lubrificare le rotaie e soprattutto pulire le testine con dell'alcol isopropilico questa invece è la scheda madre dell'osborn variant 1 questa qui è sostanzialmente identica a quella di un classico osborn 1 trasportabile solo che la scheda appunto è stata acquistata per essere poi inserita in questo case desktop allora la scheda madre vera e propria è questa qui posta qui sotto qui è lo zoccolo dove è montata la cpu lo z80 e qui appunto c'è la eprom con il firmware necessario al boot in questa zona invece abbiamo i chip di ram abbiamo un totale di 32 chip modello 41 16 o compatibili che assieme forniscono 64 kilobyte di ram necessari appunto per poi far girare il sistema operativo cpm questa piccola schedina qui invece è la scheda che ci consente il collegamento dei drive floppy tramite il flat che abbiamo visto in precedenza questo qua mentre qui c'è un altro flat che appunto riporta il connettore della tastiera sulla parte frontale del computer e questo va a collegarsi comunque qui sul retro poi sono presenti sulla scheda madre tutta una serie di integrati ausiliari alcune interfacce modello 68 21 alcuni chip per la comunicazione seriale come questo chip qui che è un 68 51 si 68 50 no scusate 68 50 e questa qui era appunto la porta seriale po di che c'è un cicalino e infine c'è questa scheda qui questa scheda qui appunto va a installarsi nello zoccolo del processore e appunto prende i collegamenti anche per la parte di prende i collegamenti anche dal connettore della e prom dei caratteri e poi tutta una serie di cavi che si collegano sulla scheda madre che recuperano dei segnali ausiliari e questa scheda sostanzialmente che integra oltre al processore la e prom dei caratteri vera e propria e alcune ram ram 6116 da 2 kilobyte ciascuna integra tutta la circuiteria necessaria poi a produrre l'uscita video che abbiamo visto poi a riportata sul pannello posteriore del computer ecco sostanzialmente la scheda è questa qui vediamo ora lo sborno variant 1 in funzione accendiamo la macchina si presenta questa schermata di avvio che una schermata di avvio classica di un computer osborne 1 ho già inserito una copia di cpm sul drive a quindi ora premo return sta caricando cpm ecco esce questa schermata con appunto alcuni help sulle funzionalità del sistema alcuni help su ad esempio utility che sono presenti eccetera premendo esc possiamo andare direttamente a cpm se ora facciamo un dir vediamo cosa è presente ecco ad esempio presente il copy che possiamo volendo lanciare che può essere appunto fondamentale per fare le copie dei dischetti per l'osborne 1 vennero realizzati anche vari applicativi quali ad esempio world star super calc e probabilmente vennero realizzati anche dei software specifici per questa macchina l'osborne variant 1 che purtroppo però non sono stati recuperati al momento del recupero della macchina il computer appunto è questo qui questa qui è la luce che segnala la presenza di alimentazione mentre questa è la chiave per accendere il computer è appunto un oggetto molto particolare sicuramente abbastanza se non parecchio raro da trovare fatemi sapere se il video vi è interessato e se eventualmente desiderate un video in merito anche all'osborne 1 vero e proprio io spero che il video vi sia interessato e vi do appuntamento ad un altro video sempre sul mio canale youtube grazie per l'attenzione